Il presidente romeno ha respinto la candidatura di Seville Shaideh, ex ministra allo sviluppo, proposta dai socialisti per la carica di primo ministro. Il paese dovrà quindi attendere ancora, prima di avere alla guida di un nuovo governo, una donna musulmana. Ho analizzato accuratamente le motivazioni a favore e contrarie ed ho deciso di non accettare questa proposta. Chiedo alla coalizione di presentare un altro nome, ha dichiarato Klaus Ioannis. Seville Shaideh, 52 anni, è esponente della minoranza tatara. Sposata con un siriano, è membro del partito socialdemocratico ed è anche una stretta collaboratrice di Liviu Dragnea, leader del partito PSD, che ha vinto le legislative dell'11 dicembre, che tuttavia non può assumere un incarico ministeriale perché è condannato a due anni di prigione, questo per frode elettorale, anche se la pena è stata sospesa.